Grazie a tutti. In primo piano ci occupiamo della situazione del call center 3G di Sulmona, una situazione non certo positiva, infatti si parla di nuovi licenziamenti alla 3G. In 91 rischiano addirittura il posto di lavoro. Analizziamo questa situazione nel servizio di Andrea D'Aurelio. In 197 rischiano il posto di lavoro, di cui 91 a Sulmona, 106 a Campobasso. Il call center 3G apre la seconda procedura dei licenziamenti. La notizia arriva come un fulminaccio al sereno da Antonietta Santavennere e Antonio De Simone, entrambi componenti della Fistel Cisle, che ieri hanno tentato di trovare un accordo con l'azienda ma non c'è stato, nulla da fare. Si va verso nuovi licenziamenti e la proroga scade il 20 giugno. L'azienda, nelle motivazioni resse sindacati, ha spiegato che deve far quadrare i conti dal momento che starebbe ancora pagando gli esarcimenti ai 50 lavoratori del primo procedimento, come ordinato la tribunale di Sulmona. Tocca ad Antonio De Simone lanciare un segnale ben preciso alla politica. In questa zona c'è pochissima sensibilità in calza De Simone che scuote la politica ad essere più attenta e meno sorda sul tema. Si continuano a perdere posti di lavoro in un territorio che, al contrario, avrebbe bisogno di un'inversione di tendenza. Parliamo adesso dell'Istituto Masciangeli di Sulmona, perché è partito il conto alla rovescia per l'apertura del cantiere. Sentiamo. L'incarico per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico è stato affilato lo scorso 11 maggio, ma docenti e famiglie attendono ancora l'avvio dei lavori nell'Istituto Masciangeli di Sulmona. Il cantiere stende a partire, ma per l'assessore comunale all'istruzione Paolo Santarelli è questione di qualche giorno. Dobbiamo solo attendere il completamento di alcune procedure. L'apertura del cantiere non è lontana, rassicura Santarelli. Se tutto filera liscio, l'inizio dei lavori potrebbe esserci da un momento all'altro, mentre l'ingresso degli studenti nella sede storica di Viale Mazzini si prevede per la primavera del 2018, sempre se gli interventi di adeguamento sismico avranno una durata dai 6 ai 9 mesi. Sulla scuola elementare, Luciana Masciangeli, è previsto un intervento di adeguamento sismico che rientra nel progetto Scuole Sicure. Il comune gode di un finanziamento di 16 milioni di euro. Parte di questa somma è stata impiegata per i lavori alla Masciangeli. La struttura sarà adeguata al 100% dal momento che saranno installati degli isolatori sismici. A partire da settembre 2017 gli alunni saranno trasferiti nei MUSP i moduli provvisori che saranno allocati nell'ex caserma Cesare Battisti. La gara è partita regolarmente, ora si attende la chiusura dell'avviso pubblico per conoscerne l'esito. E adesso ci occupiamo del mare di Pescara che è balneabile ovunque. L'esito degli ultimi prelievi dell'Arta restituisce piena balneabilità a tutta la costa di Pescara. Il comune rende noto infatti che sono conformi i valori anche su via Balilla. L'assessore Loredana dunque annuncia che questa mattina è stata inviata alla Regione la richiesta di autorizzazione a rimuovere i divieti anche su quel tratto. L'unico ancora interessato dal divieto temporaneo di balneazione. E adesso torniamo a Sulmona. Fra fede e preghiera è stata riconsegnata alla chiesa di Sant'Antonio lo storico crocifisso. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Con una cerimonia toccante partecipata che si è svolta il mercoledì sera è stato riconsegnato alla chiesa di Sant'Antonio e soprattutto a culto dei fedeli crocifisso Ligno dopo un lungo restauro durato oltre un anno. Il restauro è stato sostenuto dall'Innerwil Club Sulmona in collaborazione con la fondazione Carispa che il comitato dei fedeli. Il restauro, eseguito dal consorzio Arcovaleno, guidato dal maestro restauratore Paolo Cui, ha restituito a crocifisso Ligno l'antico splendore. Alla cerimonia di consegna che si è svolta nella chiesa di Sant'Antonio hanno partecipato, oltre ai restauratori, la presidente dell'Innerwil Club Sulmona, Rosana D'Aurelio Bianchi, Domenico Taglieri, presidente della società di scopo e già vicepresidente della fondazione Carispa, la dottoressa Anacolangelo, funzionario della sovrintendenza, il vescovo di Sumonavalvangelo Spina, padre Carlo Serri, ministro della provincia d'Abruzzo dei frati minori e padre Emilio. Il crocifisso attribuito alla scuola di Giovanni Teotonico risale al XVI secolo e rappresenta un'opera d'arte importante per il territorio per una serie di caratteristiche, tra cui un particolare meccanismo, scoperto in serie di restauro, che fa muovere la lingua e che lo rende orante. Statue e linee con tali caratteristiche venivano utilizzate nei secoli scorsi durante la settimana santa per la teatralizzazione della Passione di Cristo. Giovani in aiuto del Centro per Disabili Aias di Sulmona, un aiuto che viene fornito dunque per il censimento sulle barriere architettoniche e la disabilità. Sentiamo meglio nel servizio. Censire tutte le zone del territorio comunale di Sulmona per individuare le barriere architettoniche e le gravi disabilità. Saranno i giovani del servizio civile a codivare l'associazione Aias nel suo ambizioso progetto, che mira a segnalare tutte le barriere architettoniche presenti in città, individuare la collocazione dei disabili gravi nell'ottica della prevenzione. Se l'Aias già possiede una mappatura della disabilità, si rende necessaria una ricognizione più attenta, soprattutto perché ci sono dei disabili gravi che restano in casa senza un minimo di assistenza, anche nei casi di emergenza. Sappiamo quando ne sono e dove sono, solo che questo censimento non è ufficiale, perché alcuni gravi sono a casa senza un'ora di assistenza. E se succede un terremoto, qualcosa di... la neve, per esempio, tutti questi problemi... Il censimento delle barriere architettoniche, la massima attenzione alla disabilità sono tutte priorità già iscritte nel piano sociale distrettuale Peligno 2017-2018. E per tutta la Valle Peligno, la Valle Sagittario, tutto quanto il distretto sociosanitario, perché ormai sono 17 comuni che fanno parte dello stesso piano sociale prossimo. E adesso torniamo a Pescara, perché ieri sera c'è stata l'inaugurazione del nuovo ponte Flaiano. Luci accese, taglio del nastro nella serata di ieri per il nuovo ponte Flaiano di Pescara, che sarà fruibile dalle 15 di oggi. Ieri sul palco i bambini della classe quarta A della scuola Flaiano, che hanno suggerito l'intitolazione dell'opera al noto intellettuale pescherese Ennio Flaiano. Alice Lizza, voce narrante della festa, ha ricordato Flaiano nella sua lettera all'amico Pasquale Scarpitti. Subito dopo si sono alternate le autorità e i soggetti che hanno avuto un ruolo di primo piano nella realizzazione del ponte, dal presidente della regione Luciano D'Alfonso al sindaco di Pescara Marco Alessandrini, l'idiatore del progetto Enzo Siviero, il titolare dell'impresa realizzatrice Gianni Di Vincenzo. Questo ponte è di tutti, ha detto Alessandrini, è di una bellezza democratica e dovremmo prendercene cura. D'Alfonso invece ha sottolineato che inaugurare significa consegnare l'opera all'utenza per farla durare. Lasciamo dunque questo evento che c'è stato nella serata di ieri con l'inaugurazione del ponte Flaiano. Adesso ci spostiamo a Roseto degli Abruzzi per proseguire con le notizie che appunto vanno fuori dalla zona del centro Abruzzo. Un nuovo parco giochi in un'area verde di Force, piccolo comune della provincia di Ascoli Piceno, colpito dal terremoto del centro Italia. A donare la struttura alla comunità di Force il comitato di Roseto degli Abruzzi della Croce Rossa italiana che ha promosso una gara di solidarietà per raccogliere fondi necessari. Iniziativa cui hanno poi aderito anche l'associazione Brianza 3.0 Monza e il gruppo Facebook 6 di Monza. Sabato 17 giugno alle 15 a Force ci sarà il taglio del nastro del nuovo parco. Saranno presenti il presidente del comitato di Roseto della Croce Rossa italiana Enrico Colagrande con delegati e volontari, il presidente del comitato dei Sibillini della Croce Rossa Valeria Corbelli con i suoi volontari e il sindaco di Force Augusto Curti. Oltre ai bambini del paese, nel parco ci sono uno scivolo, un'altalena, una casetta, un cavallo a dondolo e una struttura da arrampicata. I volontari abruzzesi dopo la scossa del 30 ottobre 2016 hanno trascorso due settimane, ricordiamo, nel paese dell'Ascolano. E adesso torniamo nel centro Abruzzo per presentare lo spettacolo, il concerto che ci sarà questa sera a Prezza. Si esibirà Giuliano Palma nell'ambito della festa del carciofo. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Tutto pronto per il concerto di Giuliano Palma che chiuderà questa sera la festa del carciofo a Prezza. L'esibizione del rinomato cantautore, divenuto celebre soprattutto con il singolo Messico in nuvole, era prevista lo scorso 20 maggio, ma è stata procrastinata questa sera a causa delle condizioni atmosferiche avverse di quei giorni. L'appuntamento è alle ore 21.30, quando comincerà il concerto, ma prima sarà possibile degustare le prelibatezze culinarie della terra pelinia con l'apertura degli sted gastronomici. Tutto il paese, assieme al sindaco Marianna Scoccia, resta in trepida attesa del cantante, previste non poche presenze anche dai comuni limitrofi. Con il concerto di Giuliano Palma tornano al centro dei riflettori Prezza e il carciofo Prezzano, prodotto che sarà valorizzato, tra le altre cose, con la cooperativa di comunità. Nella giornata di domani alle 18 al Cinema Teatro Pacifico di Sulmona sarà presentato il volume «Quando vivevo sulla terra» dello scrittore Ottaviano Giannangeli. Interverrà ovviamente l'autore del volume, insieme ad altre personalità saranno presenti Carlo De Matteis dell'Università degli Studi dell'Aquila, Marco Del Prete del Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco, Marco dell'Asciucca del Conservatorio dell'Aquila, Concezio Leonzi, direttore del coro Antonio Diorio di Atri, che seguirà brani del repertorio del coro Antonio Diorio. E quindi il tutto nella giornata di domani, a partire dalle ore 18, quando il protagonista sarà Ottaviano Giannangeli, lo scrittore Peligno, Ottaviano Giannangeli, che presenterà questa sua nuova pubblicazione dal titolo «Quando vivevo sulla terra». Presenterà l'evento di domani al Cinema Teatro Pacifico di Sulmona, Rosa Gianmarco. E a proposito di eventi, a Prato la Peligna è stata programmata la notte bianca per il 19 agosto. Protagonista di questa serata della nottata appunto del 19 agosto sarà il favoloso e indimenticabile decennio 70-80. Sentiamo meglio tutti i particolari nel servizio di Andrea D'Aurelio. Una notte bianca diversa è sui generis, quella che si appresta a vivere Prato la Peligna nella serata del prossimo 19 agosto. Con mesi di anticipo sulla tabela di marcia, il countdown è partito. Programmazione resta la parola d'ordine dell'Associazione Spazio Giovane, che organizza l'evento per il quarto anno di fila. Il tema di questa edizione riporta indietro nel tempo, precisamente agli anni 70-80, con quella musica rivisitata che fa divertire i giovani, ma anche gli adulti. Sarà la festa di tutta la comunità, annuncia Lorenza Petrella, presidente di Spazio Giovane, che non svela per il momento altri particolari e lascia quel pizzico di curiosità che non guasta. I pratolani ci fermano per strada, ci scrivono messaggi dicendo che non vedono l'ora che arrivi questo 19 agosto. E di questo siamo davvero contenti, perché è un tema che racchiude non solo i giovani, perché comunque la musica di quegli anni, di quell'epoca è bellissima, ma racchiude e comprende anche i nostri genitori. Quindi non vediamo l'ora che arriva il 19 agosto, stiamo gasati, lasciatemi passare il termine, stiamo lavorando alla grande. La macchina organizzativa sta scaldando i motori da febbraio, Spazio Giovane tenderà di calare il poker, dopo tre edizioni della Notte Bianca, ricche di successi e partecipazioni. A far l'amore cominci a tu, a far l'amore cominci a tu, scoppia scoppia mi sto! E' sempre vivo il ricordo dei due giovani reggbisti morti nel tragico incidente del pulmino del Sulmona Rugby nel gennaio 2014. A Corfinio, il prossimo 25 giugno, sarà ricordato Marco Liberatore. Si tratta della quarta edizione del Menorea. Una giornata ispirata ai sani principi dello sport e del divertimento per ricordare Marco Liberatore, uno dei due giovani reggbisti morti nell'incidente del pulmino del Sulmona Rugby nel gennaio 2014. Si tratta di un appuntamento fisso del mese di giugno, scelto non a caso dagli amici, in quanto Marco era nato il 22 giugno. Il Memorial, giunto alla quarta edizione, si svolgerà quest'anno domenica 25 giugno al campo sportivo di Corfinio, intitolato proprio a Marco Liberatore. Ascoltiamo uno degli organizzatori, Marco Puccilli. Lui era uno sportivo e quindi vogliamo che ogni anno questo Memorial ci sia per ricordare la tua memoria e per lo sport, perché lui comunque amava lo sport, era un reggbista, il suo sport preferito era il rugby, però era uno sportivo a 360 gradi, amava tutti gli sport, infatti sarà una giornata piena di sport. Il quarto Memorial Marco Liberatore comincerà alle 10.30 con l'esibizione del sestiere Porta Bonomini di Sulmona, a seguire spazio al calcio, con un triangolare tra tre squadre peligne, promosse in categoria superiore, Virtus Prato, La Moronese e Ovidiana. Alle 11, bambini dai 6 ai 14 anni, daranno vita alle mini olimpiadi. Alle 12.30 si esibiranno la Ginnasium Scherma Club, la scuola di arti marziali Apchido di Sulmona ed il personal trainer Jacopo Massaro. Pausa pranzo alle 13, quando ci sarà la possibilità di accomodarsi all'ombra dei padiglioni, attrezzati con tavoli e panche. Per tutti verrà distribuito un pasto gratuito, offerto dalla famiglia di Marco Liberatore. Le attività riprenderanno alle 14, con l'esibizione del maneggio Il Castelluccio di Raiano e del gruppo Arcieri Stolici di Popoli. Per rendere omaggio alla vera passione di Marco, il clou sarà rappresentato da un torneo di rugby a partire dalle 15.00. Verranno anche alcuni ex giocatori che ora sono fuori sul Mona per Marco. Al termine il classico terzo tempo con un buffet di dolci e poi riconoscimenti per tutti. A fine manifestazione faremo una premiazione dove tutte le squadre che hanno partecipato avranno un ricordo di Marco. Ovviamente invitate a partecipare tutti coloro che conoscevano Marco Liberatore ma anche quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, è vero? Sì esatto, domenica 25 giugno a Corfinio invitiamo tutti gli amici di Marco, chi conosceva Marco, anche chi non conosceva a trascorrere una giornata con noi perché oltre ad essere una giornata all'insegna di Marco, al ricordo di Marco, è una giornata di sport. Ed è tutto pronto a Sul Mona per la seconda edizione del torneo nazionale di calcio giovanile Trofeo Città di Sul Mona organizzato dall'Olimpia Cedas. Saranno tre giornate di gara da oggi a domenica allo Stadio Pallozzi di Sul Mona per gli esordienti e a Raiano per i Pulcini partecipano 15 squadre 8 per i Pulcini e 7 per gli esordienti e dunque siamo arrivati a Sul Mona a questa seconda edizione dell'evento dopo il successo della prima edizione gli organizzatori quest'anno hanno cercato di migliorare il livello inserendo insieme alla Roma e al Pescara un'altra squadra professionistica come la Lazio per rappresentare i settori giovanili di due club di Serie A e della formazione più prestigiosa dell'Abruzzo. Ci sono anche Sorrento, L'Aquila, Termoli ed altre per una presenza di circa 300 bambini che fanno diventare il torneo di Sul Mona tra i più prestigiosi a livello nazionale. Il programma delle gare dunque prende il via nel pomeriggio di oggi al Pallozzi di Sul Mona con la sfida tra gli esordienti di Roma e l'Aquila a seguire Sorrento, Termoli, Pescara, Sul Mona Roma, Sorrento e poi alle 18 l'Aquila, Termoli. A Raiano dunque primo appuntamento con la sfida tra i Pulcini di Sul Mona e Pescara a seguire Raiano Lazio Nero Stellati Roma, Raiano Sul Mona, Vincenzo Riccio, Olimpia, Lazio Pescara, Olimpia Roma e alle 18.30 Nero Stellati, Vincenzo Riccio. L'inaugurazione ufficiale avverrà con la cerimonia di apertura che si svolgerà questa sera insieme al corteo delle squadre dei bambini della Cordesca in programma alle ore 21 da Piazza Plebiscito per raggiungere lo Stadio Pallozzi. Quindi ripetiamo, alle 21 partirà il corteo della Cordesca con le squadre e poi allo Stadio Pallozzi ci sarà la cerimonia inaugurale con la presentazione di tutte le squadre di questa seconda edizione nelle città di Sul Mona e poi al termine della cerimonia inaugurale alle 22 circa si sfideranno gli esordienti del Sul Mona e della formazione campana Vincenzo Riccio. Domani sabato altre sfide e poi domenica mattina le finali allo Stadio Pallozzi sia per quanto riguarda la categoria Pulcini che per quanto concerne la categoria degli esordienti. Lasciamo dunque il torneo di calcio nazionale Trofeo Città di Sul Mona prima di concludere come al solito vediamo i film in programmazione alla multisala Ijoland di Corfinio sono solamente due i film in programmazione un solo orario di proiezione alle 21.10 per i film La Mummia e Aspettando il Re è tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata a tutti voi grazie a tutti sulla nostra regione condizioni di cielo sereno poco nuvoloso ma la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità specie sulle zone montuose con rovesci e possibilità di temporali in estensione verso l'Aquilano l'Alto Sangro le zone pedemontane e alto collinari che si affacciano sul versante adriatico non si escludono fenomeni anche sulla Marsica tuttavia la tendenza è verso una graduale ma temporale attenuazione della nuvolosità in nottata mentre nelle prime ore della mattinata di domani assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità temperature generalmente stazionarie ma ben al di sopra delle medie stagionali venti deboli a regime di brezza mare generalmente poco mosso grazie a tutti grazie a tutti